Nel video di oggi parleremo della manutenzione delle batterie al piombo che siano per il vostro impianto fotovoltaico, per la macchina, per la moto, per la minicare, per quello che volete voi. Non sono tutti uguali, sono anzi tutte diverse. Ecco perché questo video sarà una guida completa ma che poi dovrà essere adattata alle caratteristiche della vostra batteria al piombo specifica, che sia appunto per il fotovoltaico o per altri mezzi mobili. Ebbene vedremo che cosa? Le fasi fondamentali della manutenzione di una batteria, ovvero il test periodico che va effettuato per vedere lo stato e le condizioni della batteria. Dopodiché vedremo la carica corretta, come va effettuata una carica. Vedremo anche l'equalizzazione, questa cosa così importante per le piombo, ma non per tutte. Vedremo anche in casi estremi la desolfatazione, che cerca sempre di salvare la batteria ripristinando quelli che sono gli acidi, ovvero trasformando il solfato di piombo in acido solforico. Ebbene vedremo anche il manutenitore, il mantenitore scusate, che è quell'apparecchio che serve a mantenere la batteria carica a riposo quando per un lungo periodo non viene utilizzata. Tutti i dettagli ragazzi fra pochi secondi, intanto iscrivetevi al canale. Buona visione! Il primo parametro che andiamo ad analizzare è il test, ovvero le nostre batterie che siano fotovoltaiche o per la macchina non vanno lasciate a se stesse, ma vanno curate, ovvero bisogna verificare ogni tanto la condizione, cioè se sono ancora buone, se sono scariche, se bisogna fare processo di desolfatazione. Ebbene iniziamo subito con uno strumento molto semplice per le batterie al piombo che è esattamente il densimetro, questo strumento qua. Questo è composto da un tubo di vetro, una pompetta e dentro c'è un galleggiante con una zona verde, una zona bianca, una zona rossa. Diventa intuitivo capire che quando assorbiremo l'acido della batteria e il galleggiamento non sarà sulla zona verde ma su quella bianca, vuol dire che la batteria è così così, ma quando il galleggiamento è sulla zona rossa vuol dire che la batteria è scarica, ha bisogno di desolfatazione, ha bisogno di equalizzazione oppure è esaurita. Ebbene questo processo è molto semplice, bisogna innanzitutto stare attenti all'acido perché parliamo di una sostanza molto corrosiva che potrebbe rovinarci i vestiti facendo arrabbiare le moglie, ma soprattutto se entra in contatto con gli occhi è molto pericoloso. Ecco perché bisogna sempre usare guanti di gomma e occhiali di sicurezza. Questa è una prerogativa mi raccomando fondamentale. A questo punto con il nostro densimetro andiamo a vedere che cosa succede all'interno di ogni cella. Quindi se abbiamo una batteria 12 volt bisogna misurare tutte 6 le celle. Se abbiamo una 24 volt bisogna misurare tutte le 12 e sulla 48 volt tutte le 24 celle. Adesso avvicinerò la telecamera per farvi vedere proprio in diretta l'utilizzo del densimetro su questa batteria completamente scarica e poi invece sulla batteria fotovoltaica che ho, che non è completamente carica ma in buone condizioni. Andiamo in telecamera. Il primo test lo facciamo con questa batteria che vedete essere completamente solfatata. Questa è una batteria vecchia, era quella della mia minicar e qui vediamo appunto le tracce di solfatazione. Vedete come diventa bianco questo è il diossido di piombo delle piastre positive, quello più sensibile. Ebbene andiamo adesso a misurare col nostro densimetro la densità che è sicuramente a zero, ovvero schiacciamo con la pompetta dopodiché assorbiamo l'acido ovvero il mix tra acido e solforio che acqua distillata, la soluzione e vediamo che è sul rosso, vedete non c'è galleggiamento, lo vedete benissimo qua. Questo significa che la batteria è completamente da buttare, quindi non è assolutamente in grado di erogare la sua energia. Misuriamo anche un'altra cella, la numero 2, vedete? A questo punto assorbiamo anche qui il liquido e vediamo che non c'è assolutamente nessun galleggiamento, siamo arrivati alla fascia rossa, praticamente zero, zero energia. Chiaramente c'è chi dice posso tentare, c'è chi chiede posso tentare di ripristinarla? Come sempre sì, prima di buttare qualcosa si può cercare il ripristino, vedremo dopo nelle fasi successive quella che viene chiamata appunto la desolfatazione, però vi dico che a questi livelli è molto difficile ripristinarla. Adesso vi faccio vedere anche col volumetro la tensione misurata con il tester e appoggiando sul polo negativo e positivo il tester misura, ragazzi siamo a 2,26 volt, cioè batteria completamente bruciata. Adesso facciamo lo stesso test invece su una batteria ancora buona, anche se è leggermente scarica, è una batteria fotovoltaica che conoscete benissimo, quella della forklift, e andiamo a vedere la condizione. Facciamo adesso lo stesso test su questa batteria della forklift, è una piombo classica dei muletti, molto grossa, molto capiente. Faccio entrare l'acido e intanto per staccare dalle pareti do una zoomatina e bisogna vibrare un attimo affinché si stacchi. Eccola lì e sale sul verde, una condizione ancora perfetta e a questo punto può fare veramente ancora tanti tanti cicli. Questa è esattamente la differenza tra la batteria di prima completamente rovinata e questa ancora molto buona. Abbiamo visto quindi il primo test col densimetro che serve a capire se le condizioni dell'elettrolita, cioè la composizione acido-solforico e acqua distillata, è ottimale. Reagisce alla carica, ecco che se lo troviamo sul rosso la batteria è da buttare, sul verde la batteria è buona. Un'altra condizione è quella di portare la batteria all'equalizzazione, ovvero serve a superare tutte le condizioni diciamo di disturbo sulla tensione per equiparare, difatti equalizzare si chiama, tutte le celle, le celle singole che nella 12 volt sono 6. Ora l'equalizzazione in cosa consiste? Consiste nel caricare la batteria a una tensione superiore a quella elettrolitica che di solito è 14,4 volte come vedete qua impostato. Il 14,4 è il limite fisico oltre il quale la batteria comincia a bollire, comincia a produrre queste bolle di HHO, cioè idrogeno e ossigeno. Ebbene con l'equalizzazione di cui non c'è una ricetta unica, attenzione, perché ogni batteria in funzione della potenza, di come è composta, se è una batteria semplice o se è una VRLA ad esempio, insomma ci sono tantissime tipologie di batterie, ecco perché per quanto riguarda l'equalizzazione dovete sentire il produttore. Il produttore vi dice questa batteria va equalizzata una volta al mese ad esempio a questa tensione. Nel caso della forklift l'equalizzazione che lei consiglia è 2,45 volt per cella. Ecco che se abbiamo una 48 volt, una 24 volt, una 12 volt, moltiplichiamo 12 celle o 24 celle o 6 celle per la 12 volt per 2,45 e abbiamo, lo vedete qua, la tensione di riferimento per l'equalizzazione. Di solito l'equalizzazione deve durare 4 ore perché mandiamo in ebollizione la batteria e la dobbiamo fare solo dopo che l'abbiamo caricata totalmente. Quindi carica totale della batteria al piombo e equalizzazione per 4 ore una volta al mese alla tensione del produttore. Questa è la ricetta. Le tensioni variano come ho detto in funzione della batteria. Ora una volta che abbiamo fatto la carica totale, una volta che abbiamo fatto l'equalizzazione, quello è un altro test che possiamo fare per la batteria, ovvero la lasciamo riposare per 24 ore. Quindi sganciamo totalmente le nostre connessioni e la lasciamo 24 ore. Dopo le 24 ore prendiamo un tester e andiamo a misurare la tensione della batteria. Ebbene, se la nostra 12 volt, ed è la stessa cosa per 24 o 48 raddoppiando di conseguenza, se la nostra 12 volt si presenta dopo averla caricata al massimo, dopo aver fatto l'equalizzazione, dopo averla lasciata 24 ore, si presenta con una tensione di 12 volt, la possiamo buttare. Ovviamente 12 o meno. Se si presenta tra i 12 e 2, i 12 e 4 sopravvive, ma è già abbondantemente scarica. Se si presenta invece tra i 12 e 6 oltre vuol dire che è buona, vuol dire che possiamo ancora utilizzarla in maniera sostanziale. Quindi densimetro sul verde, carica massima, equalizzazione, 24 ore, misurazione di tensione e lì abbiamo capito in che condizione è la nostra batteria. Quando ovviamente controlliamo la batteria dobbiamo vedere il livello del liquido. Se è più basso va aggiunto, se è più alto abbiamo sbagliato, attenzione, e non possiamo togliere perché togliamo anche l'acido solforico. Mentre se è più basso e aggiungiamo che cosa aggiungiamo? Acqua distillata, rigorosamente acqua distillata o demineralizzata. Alcuni mi chiedono posso usare l'acqua piovana? No, perché contiene oramai tantissime sostanze acide e inquinamento che non va assolutamente bene per le batterie al piombo. Vi ricordo che le batterie al piombo hanno una sensibilità alle sostanze chimiche introdotte esagerata. Metalli, ossidi e quant'altro rovinano la chimica delle batterie. Alcuni mi chiedono va bene l'acqua del condizionatore, visto che esce acqua distillata? No, nel senso che se un condizionatore è nuovo, dove non ci sono impurità, dove vogliamo utilizzarla, sì, se no anche lì ci può essere già un'ossidazione dei vari metalli, lo sporco nei condotti, qualche insetto annidato e a quel punto l'acqua è contaminata. Ecco perché consiglio di aggiungere solo acqua distillata. Se dovete fare invece il processo di desolfatazione, ovvero una batteria rovinata, vedete le celle che sono biancastre, proprio il solfato di piombo e volete cercare di ripristinarla, ebbene questo è un processo che potete fare tranquillamente. Adesso vi dico come si fa. Praticamente dovete acquistare uno degli strumenti, io qui vi faccio vedere questo che è un Bosch, che è buono, chiaramente di tutti questi prodotti c'è sotto il link nella descrizione se volete acquistarli. Questo è un desolfattatore, questo fa 6 volt e 12 volt, quindi può desolfattare anche batterie da 6 volt con tre celle, piuttosto che la 12 volt. Questo si programma, viene connesso alla batteria e col processo di desolfattazione lui manda delle scariche continua, una tensione superiore che serve proprio a distaccare, a sciogliere quelli che sono gli elementi di solfato di piombo. Questo è anche un mantenitore, slittiamo anche nell'altro consiglio che volevo darvi, cioè le batterie non vanno mai lasciate lì così, o le usiamo o le usiamo. Non vanno mai lasciate soprattutto le batterie al piovo perché ogni mese perdono intorno al 10% che è tantissimo e già dopo una settimana può iniziare il processo di solfatazione. Allora lo dobbiamo rimediare come desolfattando. Come si fa? Attraverso l'uso continuo avviene in automatico, ovvero carica totale massima sempre, utilizzo, carica totale massima, utilizzo e una volta al mese, equalizzazione. Le batterie durano tantissimo se rispettiamo le tensioni dei nostri produttori, non inventiamoci le cose, manteniamo sempre il liquido a livello giusto e alcuni amici del canale mi hanno detto Gianni ho aperto una GM di un video che avevo fatto e l'ho trovata un po' secca, cosa devo mettere? Anche lì non c'è una formula certa, dobbiamo vedere il livello di secchezza, se è completamente disidratata probabilmente è impossibile ripristinarla, possiamo tentare aggiungendo l'acido di un'altra batteria però andiamo ad arricchire di acido quindi dobbiamo creare dei mix tra acido e acqua di cui la percentuale non è facile da individuare, ecco perché vi dico serve capire il livello di secchezza alla quale è, se è completamente secca allora mettiamo l'acido di un'altra batteria, facciamo un processo di desolfattazione lunghissimo e vediamo cosa succede, se no ovviamente dobbiamo smaltirla nei centri appositi. Se invece l'abbiamo trovata con una tensione sugli 11 volt, 12 volt, era ferma, quella della moto e che cosa devo fare, la macchina era lì in garage e quella di mio nonno che non uso da tanto tempo, lì possiamo cercare di ripristinarla attraverso la desolfattazione lasciandola per un tempo prestabilito secondo della potenza della batteria, dopodiché accendiamo, carichiamola bene ai massimi livelli, facciamo l'equalizzazione e vediamo dopo 24 ore in che condizione si presenta, è a 12 volt buttare, è a 12,4 buona si può ancora utilizzare, è a 12,6, 12,8 è nuova. Bene ragazzi questi sono elementi fondamentali, nel link vi faccio vedere anche questo che è una bottiglia automatica dove vedete che c'è questo tappo che entra, ebbene questo è un dosatore per le batterie, noi mettiamo questo all'interno della batteria, schiacciamo, l'acqua esce e si ferma in automatico lì dove c'è il livello, poi lasciamo e abbiamo ottenuto il risultato di riempirla ma senza sbagliare perché a volte riempiamo troppo e non possiamo toglierla, se no togliamo anche l'acido. Quindi utilizziamo queste queste piccole cose, queste accortezze, acqua distillata, il suo dosatore, questo che è un caricabatteria, alimentatore stabilizzato, usiamo il densimetro, dove l'ho messo adesso, dato che conteneva acido, l'ho appoggiato qua, il densimetro, questi di vetro sono molto molto buoni ed è uno strumento semplice che costa pochi euro, in questo modo abbiamo veramente la sicurezza nel mantenimento delle batterie. È tutto per questo video, spero sia stato utile per tutti gli amanti delle piombo, per tutti coloro che vogliono mantenere il loro impianto fotovoltaico, nonché le batterie dei mezzi mobili. Ragazzi il video è finito, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo. Buona giornata!